benvenuti io sono federico fisioterapista esperto nelle disfunzioni del sistema di movimento adesso andiamo ad analizzare il movimento fisiologico di flessione anteriore del tronco come quando nella vita quotidiana ci pieghiamo per raccogliere un oggetto da terra o quando ci flettiamo per lavare i denti esistono diversi modi di piegarsi che ciascuno di noi compie in modo automatico e familiare influenzato dai movimenti ripetuti e dalle posture mantenute gli studi scientifici eseguiti con approfondimenti sulla biomeccanica di soggetti sani ci indicano il modo più fisiologico di eseguire la flessione del tronco la flessione anteriore è un movimento coordinato di flessione della colonna lombare e flessione delle anche che prende il nome di il ritmo lombopelvico inizia da un piccolo spostamento posteriore del bacino per mantenere il baricentro nella base d'appoggio le anche devono iniziare a flettersi prima che la colonna lombare diventi piatta la flessione delle anche continua poi assieme a flessione lombare una volta terminata la flessione lombare ulteriore flessione è a carico delle anche otteniamo quindi circa 20 25 gradi di flessione lombare e 70 80 gradi di flessione d'anca inoltre se il movimento è simmetrico non dovremmo osservare rotazione di colonna o bacino adesso vediamo delle criticità nel modo di eseguire la flessione anteriore non pensate che dopo la visione del video sia possibile farsi un'auto diagnosi in quanto ci sono numerose variabili che possono influenzare i movimenti il vostro fisioterapista esperto del sistema di movimento potrà aiutarvi nel migliorare la qualità del movimento una prima criticità può essere la flessione lombare eccessiva con le anche che si flettono meno o molto in ritardo una seconda criticità può essere la flessione d'anca eccessiva con una flessione lombare ridotta una terza criticità può essere un eccessivo spostamento posteriore del bacino con ginocchia troppo estese e apertura dell'angolo tra tibia e piede la strategia di spostamento posteriore del bacino può però essere efficacemente utilizzata da individui con diagnosi di stenosi del canale che è una modificazione ossea del canale vertebrale osservata solitamente negli individui più anziani ogni persona possiede caratteristiche strutturali individuali come ad esempio spalle molto larghe rispetto al bacino o viceversa arti molto lunghi rispetto al tronco solo per elencarne alcune ancora una volta vi ricordiamo che sarà il vostro fisioterapista a personalizzare il vostro percorso di cura in base alla sua valutazione spero di aver suscitato in voi interessi e curiosità rispetto a questo tema vi lasciamo i nostri contatti nell'info box e le referenze scientifiche per chi volesse approfondire stiamo già preparando altri video che analizzeranno alcuni gesti della vita quotidiana se avete suggerimenti o domande non esitate a scriverci